La parola lifting oggi è sinonimo di tecnica per ringiovanire. Oggi possiamo dire che è possibile ringiovanire attraverso l'utilizzo delle proprie cellule staminali. Il nostro tessuto adiposo è ricco di cellule staminali e queste sono la fonte principale per dare rigenerazione ai nostri tessuti. Quindi possiamo dire che oggi il lifting con le staminali è possibile ed ha un risultato estremamente naturale, armonico, sicuro e con una metodica estremamente semplice.